bella a tutti ragazzi bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio incredibile nuovo video oggi siamo come gli addi Gabriele x Diofrida ok oggi facciamo scaldacolbi che sbagli hai oggi comunque e siamo oggi per fare per spacchettare 10 pacchetti di cacciato di panini più un pacchetto bonus della Champions League andiamo subito lui conta quanti sono intanto io apro questo quanti sono? 10 ok giusto questi ce li ha anche Fabio03 come a Manuel l'ho trovato poi troviamo Montreal buono 59 per l'attacco diciamo ok questo Felipe camp camp e easy tam mirin però Manuel atroido di Maria non è giusto quello dell'arsenal è tricilosissimo che io ho fatto una casa con l'arsenal proprio ieri sera posso iniziare io allora ragazzi bisogna fare così non lo sapevo aspetta e vediamo vediamo oh oh no non hai vinto un altro del pescara visto che ne aveva solo uno vabbè vediamo Lentner mi sembrava Murari perché non montare è Pavlovich lo svizzero qua ci vorrebbe Nemo che porta un po' di culo ok la bacia la bacia ok Anto si dimmi Anto io ho torno di sottoline quindi se qualche giorno vorresti scambiare le carte ma non vinto siamo bene ed è ci può stare ed è ed è le carte ho visto uno della Juve attenzione attenzione tipo i guendo pion ma è uno del Palermo no Bruno Perez si anche io ce l'ho doppio Bruno Perez ce l'ho doppio ce l'avevo doppio vero è troppo forte è troppo forte ora ragazzi adesso hai vinto vediamo hai vinto non hai vinto ho finito una politica oggi me lo sentivo che c'era oggi me lo sentivo che c'era hashtag scudo Gabrielex anche se siamo nel canale di Anthony che parola parola poi che è questo Felipe e poi Patrick che ho anche doppio madonna mia anche io ti sto portando 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 non hai vinto io nel frattempo sto aprendo l'altro Matteo Politano non ce l'ho però mi palermo troviamo raggi gioco 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 appena ho visto milano a me è sembra subito di buon buon allora qua c'è un giovane e tanto talento c'è Riccardo Kirchner Kirchner tre calciatori di serie B un'altra di Pescara un'altra di Pescara poi ti scambio Abate con chi con Fiorentina secondo giocatore che è Babacar un bel giovane talento uh art carte calza speciale che è la squadra dell'Inter buona oggi pure lui me lo sentivo è è Jose Mauri guarda art e carta speciale Alberto Grassi e Danilo oggi scuola scuola Gabriele ragazzi madonna mia moggi che cazzo è Gabriele si i 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 sef martinets poi la squadra del Genoa in cui c'è perini che io gli ho trovato un altro del Palermo e Roberto in cui cazzo mando chiudi gli occhi hai vinto vero no chiudi gli occhi sto scurando sto scurando madonna mia madonna sto scurando sto scurando addio sto scurando la posso aprire io no questo io questo io madonna mia è caduta una carta madonna mia madonna mia niente non ho vinto oggi che cazzo è che non vinco adesso sono finiti veramente la generazione della ah vabbè uno del genoa un altro del genoa palermo vabbè in questo allora ragazzi madonna mia scudetto del milan a posto spero che scudetto maglietta vabbè spero che questo video vi sia piaciuto arriviamo a 10 like dai voglio essere buono però anzi 10 like per un prossimo sfacchitamento 15 like per 15 pacchetti 15 pacchetti con gabriele mi raccomando iscrivetevi al suo canale ma soprattutto non sto scherzando pure il suo trovate il link del suo canale qui in descrizione e niente ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao